Ciao ragazzi, allora qui ringraziando il Signore di neve ne abbiamo. Ieri sera, anzi scusate, ieri mattina nella notte quando sono dovuto partire per il Friuli, mi sono sceso alle 4, io ho dovuto spalare un'ora e mezza perché noi come ben vedete, noi quando è ora di nevicate qua siamo sempre omaggiati, ne abbiamo sempre in abbondanza. In parte sono anche contento perché qua le stazioni sciistiche poverine hanno fatto una brutta stagione invernale e ne avevano anche bisogno, stessa cosa la campagna, i pascoli, serveva un po' di neve, io sono sempre quello che la desidero di meno perché si triplica il mio lavoro, sono qui con Scorpio che gli devo insegnare, mi piacerebbe imparare a spalare la neve, ma va con che faccia che mi guarda, vorresti imparare a spalare la neve? No, ma dai una risposta, bisogna dire o sì o no, niente, fa l'indifferente, la neve continua sempre, però vuol dirmi qualcosa, sì, ha detto che mi vorrebbe aiutare forse. In poche parole per adesso comunque al di là di queste promesse me la sono sempre spalata io, me la sono spalata di notte per poter partire, poi intanto che non c'ero il resto l'hanno fatto i miei familiari perché quando è ora di neve, insomma noi ci diamo sempre ben da fare. Allora, che cos'è che mi ha fatto venire in mente questa neve e del motivo perché ho deciso di fare il filmato? Il fatto, se può essere buono o no adottare i cuccioli d'inverno, ma in questi inverni tanto colgo l'occasione di farvi vedere, vedete adesso sta arrivando il gatto, non so se riesco a farvelo vedere, no? E forse eccolo lì, poi vedete che rapporto hanno i miei cani con i gatti, tanti che sono preoccupati, praticamente guardate il gatto come si rigira tutto al contrario, lì tranquillo e il massimo relax perché questi cani che sono animali tutti da scoprire, no? Tanti li vedono, quando io faccio vedere l'azione di difesa lo dicono no, non lo vorrei mai, sono animali pericolosi, che lo dite perché non capite un cazzo, se voi capiste qualcosa di cani, di cos'è il vero cane, questi cani da pastore, da gregge, proprio questi audaci, così coraggiosi, per lo stesso principio che si scagliano contro la recinzione per proteggere il territorio e la famiglia e con lo stesso principio di grande attaccamento, di riconoscimento nei confronti di chi gli permette la sopravvivenza col cibo, hanno veramente un rapporto eccezionale. Le molti di loro, guardate dove viene il gatto, praticamente ce l'ho qua dietro, lo vedete lì che adesso passa, esatto. Siamo qua io e Scorpio, io Scorpio non le ho dato, gli ho già dato due o tre pezzetti di pane prima, ma lui neanche in questa situazione ai gatti, che sono i suoi gatti, perché lui ha due gatti, non gli dice nulla e ne avremo già avuti non so quanti, sia lui sia la femmina, ecco. E' vero che non tutti i cani di questa razza sono così, ma i cani da pastore saranno fra i più indicati in assoluto a vivere con gli altri animali, basta avere un po' di cervello, capire un po' come funziona. Però l'argomento di oggi è il cucciolo, se facciamo bene o no a, oppure cucciolone, se facciamo bene o no a adottarlo in inverno. Allora io vi dico la verità, tenendo presente che è venuta tutta sta neve, stamattina era meno nove, io non vedo neanche uno svantaggio perché guardate Scorpio, lui ha dormito fuori tutta la notte ed è sano come un pezzo. È ovvio che se voi vi comperate, vivendo al nord, di quei cani che vengono dei paesi tropicali, ma quello siete già voi che partite facendo un maltrattamento animale. Questo maltrattamento animale non è che lo evitate se poi lo fate vivere in casa, perché far vivere un cane in casa è privarlo di tutta quella che è l'atmosfera notturna come tutti gli animali, privarlo di questo scambio che c'è proprio naturale, si può dire cosmico che avviene solo di notte, privandolo di respirare, dell'aria buona di notte, privarlo di scegliere dove vivere, già quello è un inizio di maltrattamento animale. Mi fanno ridere quelle persone che vivono in città e che fanno respirare solo smog ai loro cani e poi commentano e vorrebbero insegnare agli altri qualcosa sul benessere animale. Il benessere animale innanzitutto è fatto che loro devono poter scegliere, intanto dovrebbero scegliere di poter andare dove vogliono, ma scegliere di vivere dove vogliono. Quindi vi dice, è ovvio che se vi prendete uno di quei cani che praticamente sono nati per vivere i tropici e li portate qui già in Italia o specialmente qua al nord, partite già con maltrattamento animale e sbagliate tutto, ma se voi vi prendete delle razze che siano indicate come quelle da greggie sia d'estate che d'inverno, perché hanno una selezione dovuta alle transumanze, perché in Asia centrale c'è dalle montagne i deserti, insomma cani che si adattano bene al cambiamento climatico, diglielo anche tu Scorpio, non c'è niente di meglio che loro stiano sempre fuori. Ovviamente stando a fuori poi allevano anche le femmine come vi ho già fatto vedere in fotografie i suoi cuccioli fuori, da un mese possono anche stare a meno 10, meno 15 cuccioli e non patiscono assolutamente. Però adesso io vi vorrei parlare se esistono vantaggi o svantaggi proprio pratici per voi. Allora io svantaggi non ne ho individuati, invece stavo viaggiando perché sono partito da Trieste stamattina molto prima dell'alba per venire a casa a fare un po' di lavoro. Stavo pensando a una cosa viaggiando, quali sono questi grandi vantaggi, questi tre grandi vantaggi di adottare il cucciolo e il cucciolone d'inverno? Sono proprio vantaggi di tipo pratico. Allora il primo è, specialmente se prendete un cucciolo più che un cucciolone, quello di poterlo lasciare nel giardino e non avere tutta sta gente che passa davanti a casa come fanno d'estate, che passano a plotoni, vedono il cane, magari lo chiamano, magari portano dei cani a spasso, il cane si avvicina lì da due abbai, sarebbe necessario che questi se ne andassero, invece voi non ci siete e stanno lì, magari vi accarezzano il cane, gli hanno un pezzo di grissino, che contribuiscono sempre a rendere poi la vita difficile a me, perché io faccio di tutto per fare cani da guardia, vendo a volte cani da guardia, cioè cuccioli molto predisposti e poi i proprietari e tutta la gente attorno vicini di casa fanno di tutto per rovinarli. Quindi il fatto che stanno molto in casa è un grande vantaggio, vi dirò di più, il fatto che stanno molto in casa e vivono adesso per il freddo che fa, chiusi in casa e di notte tengono le finestre chiuse, se voi mettete il cucciolo che prima di notte abbaia, come dire, magari piange oppure deve fare tutti i suoi versi, vi romperanno molto meno le scatole perché non è come d'estate che sono tutti con le finestre aperte e quindi sembra che il cane le abbaia all'interno della loro camera da letto. Adesso tutti con le finestre chiuse il cane fa tutto quello che vuole e praticamente non se ne accorge nessuno negli giorni o negli notte. Ma esistono altri due veri vantaggi. Un altro vantaggio è riuscire facilmente ad abituare il cane a star fuori, perché voi siete obbligati a stare con le porte e finestre chiuse, quindi è facilissimo abituare il cane a star fuori, il cucciolo a non entrare, perché da me vivono solo fuori. Normalmente i miei cani li preparo per non entrare, io non li faccio mai entrare in nulla di chiuso, ma nel momento in cui arrivano nelle case i bambini entrano e escono, entrano con la merenda, escono con la merenda, voi fate cuocere un bel arrosto, mangiate in cucina e una volta lo fa e due volte lo fa, poi a un certo punto il cane vuole solo più entrare, voi giustamente non volete, il cane magari vi gratta la porta perché glielo avete insegnato voi a grattare la porta. Invece d'inverno si autosistema già tutta la situazione, si può fare anche d'estate ma si deve mettere delle paratie a volte perché il cucciolo non è che dice l'insegno, lo sgrido, quelle sono di una cinofilia che per me è vecchia di mille anni, nel senso quando si allevano cani di carattere bisogna cercare di guidare quelli che sono gli istinti del cane e questo vi aiuta molto a impostare il vostro rapporto con il cucciolo. Poi c'è la cosa più importante, fondamentale che nessuno considera, che proprio perché fa freddo ve ne state in casa e per i primi 10-20 giorni, un mese, voi avete poche relazioni col cucciolo perché al contrario di cosa vi dicono tutti, che il cucciolo dovete abbracciarlo, dovete coccolarlo, dovete fare, queste sono tutte cazzate, il cane deve quando viene via dal branco, viene via dalla cucciolata, deve prepararsi pian pianino da solo a quello che è l'ambiente esterno, il cane non si immaginava di dover venire a vivere con degli umani, il cane non cerca gli umani, non c'è cagata più grossa di quelle che dicono il cane ha bisogno del calore umano, ma dove sta scritto? Cioè il cane non si accopia mica con gli umani, il cane si accopia con altri cani, il suo scopo è sopravvivere per riprodursi, gli umani che cazzo, cioè siccome sono gli umani che l'han preso, l'hanno messo nel giardino e lo costringono a stare chiuso lì, tante volte manco gli danno un cane e lui fa tutti questi atteggiamenti, queste interazioni, che gli umani si vogliono praticamente illudere, che siano rivolte a loro, ma non sono mai riusciti a spiegarmi un solo motivo perché il cane dovrebbe fargli questi atteggiamenti, cosa gli hanno fatto di vantaggioso al cane andandolo a prendere, cosa gli hanno fatto di vantaggioso a portarlo a casa, cosa gli fanno di vantaggioso a non lasciarlo uscire e non lasciarlo interagire con altri cani, quindi sia che voi nel giardino avete cani, sia che non ne avete ancora, il cucciolo i primi 15-20 giorni deve conoscere il territorio in pace, incontrarvi per delle certezze sul cibo, cioè voi sarete e diventerete pian pianinizzatori di cibo e lui dirà ok, prima ero con la mamma, prima ero un branco di cani, prima ero con i miei simili e il mio progetto sembrava che si potesse realizzare, cioè sopravvivere per i pruse, adesso mi hanno portato qui, non conosco il posto e devo interagire con questi personaggi che non hanno nulla a che vedere con l'animale della mia specie, il fatto che adesso è inverno e voi finalmente venestete in casa e non gli rompete l'anima praticamente ai cani è un grande vantaggio, sia per il rapporto che voi avrete in futuro con il cucciolo, che vi apprezzerà apprezzerà molto di più, avrà molto più fiducia di voi, perché quando io consegno i cuccioli cosa fanno i proprietari visto che l'hanno anche pagato? Iniziano in qualche modo a indagare sul cucciolo e come lo toccano e lo guardano dappertutto e dicono perché va là, è perché mi ha morsicato questo, è perché corre dietro i bambini, è perché fa questo, è perché fa quello, cosa che invece il cucciolo i primi 20 giorni, un mese andrebbe ignorato completamente, lasciato in pace che pian pianino si abituasse all'inverno, scusate che si abituasse al nuovo ambiente e visto che è inverno tutto in questo momento va a suo favore e anche al vostro favore perché voi non uscite tanto quindi siete obbligato a lasciarlo come dire che si abitui gradatamente, non può entrare in casa e così non lo dovete sgridare, non vi conosce già come persone irritate che lui non sa che non può entrare in casa perché se da lì escono odori, se i bambini entro con la merenda pensa di poterli seguire e voi non volete, se invece poi lo abituate a entrare in casa, abituarlo poi a star fuori, è un dramma ma non solo questo, se per caso voi il cane da guardia di carattere lo fate vivere in casa ecco siete già proprio partiti a fare la corsa con una scarpa e un piede scalzo e di conseguenza quando si parte già in questo modo è difficile vincere poi la competizione, la competizione è riuscire a instaurare un rapporto duraturo e come dire che abbia un significato come faccio io da sempre con i miei cani di altissimo carattere non solo quando prendo i cuccioli ma specialmente quando li adotto che hanno già come minimo 4-5 anni e nell'arco di pochi mesi vengono ad avere un ottimo rapporto sia con me che con i familiari. Ok da in mezzo a queste montagne di neve spero di avervi fatto piacere a farvi questo filmato vi ringrazio come sempre che mi avete ascoltato domani o dopo domani vi voglio come dire per quelli che mi seguono su youtube proporre appunto la diretta che c'è stata mercoledì molto interessante quando e perché i cani possono diventare aggressivi col padrone anche se voi mi seguite su facebook se non avete avuto tempo a seguirla andate ad ascoltare perché lì vi dico cose molto importanti che secondo me dovrebbero sapere tutti. Ciao ragazzi a presto